Ciao a tutti e benvenuti qua sul mio terrazzo. Come vedete è già montato il set per Live from the Terrace, un live show di circa una mezz'oretta che andrà in onda tutti i venerdì alle 18.30 proprio da qui. Ci saranno canzoni impossibili, sondaggi improbabili e molti molti modi per interagire tutti insieme. Ci saranno anche momenti musicali e ci saranno spero tante risate da farci tutti insieme davvero. Ma questo canale non vuole essere soltanto il raccoglitore di questo show. Ci saranno anche contenuti musicali staccati e diversi da quelli del live. Ci saranno anche altri contenuti diversi, magari vlog, magari altre cose ancora. Se devo essere sincero non lo so come andrà a finire con questo canale. Spero davvero bene. Infine voglio ricordarvi ancora di venerdì alle 18.30 con Live from the Terrace. Ciao! Ciao!